Bene, direi che avremmo voluto essere dal vivo, nel senso di incontrarci fisicamente, non possiamo per colpa del virus, avremmo voluto essere in diretta, non possiamo a causa della tecnologia, abbiamo comunque pensato di proseguire registrando appunto i contributi, gli interventi di questa giornata, mezza giornata, che abbiamo comunque voluto fare, io saluto tutti quelli che poi ovviamente i presenti, ma anche chi ci ascolterà e che seguirà successivamente questo contributo, eravamo in tanti, iscritti quasi 800 da tutta Italia, anche dall'estero, ci scusiamo ovviamente per il disguido tecnico, speriamo che comunque la fruizione del contenuto possa consentire a tutti un momento di riflessione, un contributo, una riflessione, un pensiero che quanto mai oggi riteniamo importante, ecco, per affrontare una stagione inedita per tutti, ecco, per questo ambito, ma per tanti ambiti della vita, delle nostre comunità. E per questo anche abbiamo voluto, nonostante l'impossibilità di incontrarsi, poi l'impegno è quello a maggior ragione, visto le difficoltà tecniche, di appena possibile anche di riallestire un momento di confronto dal vivo, diciamo, per potersi incontrare fisicamente. Quindi io saluto chi ci ascolterà, insegnanti, educatori, chi si era iscritto e che quindi accederà comunque a questa registrazione, volontari, mediatori, ricercatori, insomma tutti quelli che potranno fruire di questo contributo, che riteniamo, ripeto, un contributo di pensiero e di riflessione importante in questa fase, perché è una fase ovviamente inedita storicamente, eccezionale, che ha costretto le comunità intere, nelle loro diverse articolazioni, a rispondere a un'emergenza di tipo sanitario, ma che ovviamente ha avuto e sta avendo delle implicazioni molto rilevanti sulla vita quotidiana e organizzata, nella vita civile delle nostre comunità. E quindi darsi uno spazio di pensiero e di riflessione, nel quale anche proiettare scenari e capire come sarà la vita delle nostre comunità durante la presenza di questo virus ecco che c'è, credo che sia una cosa da fare su più livelli anche su questo. Come amministrazione comunale, come città, non da ora ovviamente attraverso la rete diritto di parola, lavoriamo costantemente su questi temi, credo però, ma i contributi che mi seguiranno meglio di me lo diranno, credo però che un'attente e profonda riflessione vada fatta alla luce di quello che stiamo vivendo. Perché quello che stiamo vivendo ha prodotto per certi aspetti una grandissima accelerazione su certi aspetti, in diversi ambiti, se pensiamo all'ambito sanitario o all'ambito della cura in generale, questo è stato per forza di cose evidente, ma non solo, ovviamente anche tutto l'ambito dell'educazione, dell'insegnamento, della didattica ha subito e sta subendo da un lato dei grandi cambiamenti, molto in divenire, ma probabilmente molto profondi. Quindi la necessità di un pensiero e di una riflessione sono quantomai opportune e per questo abbiamo voluto comunque, nonostante tutte le difficoltà, raccogliere contributi e condividerli. Un'altra cosa che è accaduta, purtroppo devo dire, in tante comunità ovviamente per il nostro paese, ma non solo, è che questi due mesi e più di crisi sanitaria hanno anche prodotto un allargamento tra garantiti e non garantiti, quindi è fondamentale anche riflettere sul tema dei diritti, dell'accesso alle opportunità, perché una crisi come questa può, per certi aspetti lo ha già fatto, generare ulteriori squilibri, disuguaglianze, allargare un fossato che purtroppo divide, chi ha più garanzie e chi ne ha meno, chi ha più diritti e chi ne ha meno. Allora, questo tavolo, questo momento di riflessione affronta anche questo, e secondo me è altrettanto importante. Essere consapevoli che un momento di crisi, di difficoltà e di fatica come questo, ci dà dei vincoli, ci dà delle criticità, ma ci dà anche delle opportunità. E dei rischi, appunto, il più grande è questo, che si allarghino le disuguaglianze, aumentino appunto le distanze tra chi è garantito e chi non lo è, che possono scivolare verso spazi di vulnerabilità, condizioni di vulnerabilità, persone che prima non lo erano, quindi tutto quello che si può mettere in campo per tenere vicine queste componenti delle nostre comunità e dal nostro punto di vista, ovviamente, è giusto, importante, necessario e metterlo in campo. E ringrazio ovviamente la rete diritto di parola, ringraziamo il nostro comitato scientifico, abbiamo anche un pensiero per il maestro Tullio De Mauro, che nel 2016 ci ha salutato proprio a un convegno di questa natura. Io mi fermerei qua, perché ci tenevo a dire questa cosa, come dire anche a scusarmi, per chi ci seguirà ci ascolterà per il disguido tecnico, ma credo che la possibilità di furire il contenuto è la cosa importante, la possibilità di dare un contributo di riflessione alla cosa a cui tenevamo e quindi questo sarà garantito, così come adesso nelle modalità che vi verranno indicate, che vi sono indicate nella comunicazione che vi riporterà, poi vi riporta il link alla registrazione, troverete anche il modo per poter fare domande e avere comunque anche uno spazio di interazione, che pensavamo e speravamo poter fare in diretta, lo faremo in differita, sperando comunque che possa avere una sua efficacia ugualmente. Quindi io mi fermerei qua, perché ben più di me, meglio di me, chi mi segue potrà darci questi contributi, che in questa fase sono oltremodo opportuni, per cui io lascerei la parola a chi, alle nostre dirigenti qui del territorio, alla dottoressa Benedetta e alla dottoressa Peci per il loro saluto, il loro contributo e poi si svilupperanno come da programma le tavole rotonde con le relative riflessioni. Ringrazio tutti i relatori, ringrazio tutti quelli che ci ascolteranno e ci scusiamo ancora per il disguido, sperando, ripeto, di poterci incontrare fisicamente per proseguire queste importanti riflessioni. Grazie Assessore della Parola. Sono particolarmente felice oggi di portare a tutti voi il saluto del CTA Reggio Sud, che dirigo e che ha voluto partecipare a questo convegno attraverso alcuni dei suoi docenti che lo hanno sostenuto materialmente all'interno del comitato scientifico e anche hanno voluto partecipare altri come uditori e dunque tra un po' ci ascolteranno indifferita. Dunque oggi sono particolarmente felice di essere qui a salutarvi perché l'argomento che avete scelto è l'argomento è l'argomento che sta attraversando l'istruzione italiana e non solo italiana in questo momento è l'argomento che ci sta interrogando tutti e credo in maniera speciale sta interrogando i CTA li sta interrogando perché la didattica a distanza pone nuovamente il tema dell'analfabetismo ma lo pone in forme nuove all'analfabetismo tradizionale si sta aggiungendo in questi mesi drammaticalmente, si sta sovrapponendo l'analfabetismo digitale con un potere direi moltiplicatore delle esclusioni e dei limiti e quindi siamo di fronte davvero al tema centrale e drammatico di questi mesi che abbiamo alle spalle ma ciò che mi preoccupa altrettanto che sarà ancora il tema centrale dei mesi a venire sono molte le indicazioni che ci portano a pensare che la didattica a distanza sarà ancora con noi nel prossimo anno scolastico probabilmente solo in parte ma ci sarà ancora e dunque nuovi limiti che vediamo profilarsi all'orizzonte legati spesso anche agli strumenti faccio solo un esempio in queste settimane i docenti con grande generosità hanno attivato chat di Whatsapp che hanno consentito soprattutto agli analfabeti di rimanere in contatto ebbene il ministero ci ha detto con molta chiarezza che Whatsapp non sarà utilizzabile ulteriormente perché non protegge i dati personali quindi vedete che ad ogni passo vediamo profilarsi nuovi limiti e nuove pericolose forme di esclusione quindi ascolterò con grande interesse ciò che il comitato scientifico ci indicherà ci indicherà perché non soltanto sono certa verrà fuori un'elencazione un'evidenziazione di questi limiti ma molto di più sarete capaci sono certa di indicarci la strada per come trascendere questi limiti per come tener conto di limiti che esistono che sono dati e provare a trasformarli in un'opportunità non volendo essere retorica con questa affermazione che so essere pericolosa però davvero questi limiti ci sono e ci saranno ancor più nei mesi a venire e mi auguro davvero che insieme si possa esercitare quella creatività che è prima intellettuale e poi diventa anche creatività educativa che ci consente di utilizzare il limite per travalicarlo e quindi vi ringrazio di essere qui oggi a cercare di sostenerci in questo cammino ringrazio l'assessore Marchi e il comune per aver voluto fortemente attraverso la rete diritto di parola questa giornata averla mantenuta in maniera direi pervicace ed è un sentito ringraziamento che muovo anche al comitato scientifico alle parole che ci diranno e alla collega che mi sta per seguire la dottoressa Peci dirigente del CPR Regionord con la quale costantemente abbiamo tenuto un contatto per affrontare questi giorni che sono stati difficili e come vi dicevo si profilano ancora difficili vi ascolto con grande interesse e vi auguro davvero un buon lavoro per la giornata Buongiorno a tutti sono davvero felice di essere qui con voi ringrazio la collega Benedetto con la quale davvero la solidarietà e l'impegno sono comuni ringrazio il comitato scientifico ringrazio il comune di Reggio Emilia l'assessore che appunto ci ha incoraggiato a riflettere insieme su queste tematiche abbiamo bisogno di una grande riflessione ma lasciatemi ringraziare prima tutti i docenti che in questo periodo del personale amministrativo si sono messi in discussione c'è stato davvero un grande cambiamento culturale abbiamo dovuto stravolgere nel giro di 24 ore un modo di pensare un modo di offrire la didattica questa trasformazione ha creato disorientamento frustrazione ma io almeno dal mio punto di vista dal mio osservatorio ho visto delle esperienze straordinarie ho visto mettere in gioco da parte dei docenti tutto quello che potevano e non hanno pensato solamente agli aspetti legati agli apprendimenti hanno pensato agli aspetti emotivi quelli relazionali che in questo momento sono davvero importanti perché siamo tutti sotto lo stesso cielo perché viviamo tutti le stesse difficoltà soprattutto le persone che appunto stanno affrontando un periodo che è ancora più difficile come diceva l'assessore si rischia in questo momento di creare un divario ancora maggiore allora quelle distanze che il titolo di questo convegno mette in evidenza dovrebbero davvero cominciare ad assottigliarsi e lo possiamo fare se anche l'amministrazione e il governo ci aiuta a garantire quei diritti minimi per poter continuare a fare scuola a fare una scuola per gli adulti che significa prospettive per il futuro significa garantire competenze per tutta la vita abbiamo bisogno di sedi abbiamo bisogno di sicurezza abbiamo bisogno che quelle sedi che con tanta fatica i CPA hanno conquistato rimandano abbiamo bisogno di strumenti abbiamo bisogno di garantire a queste persone che il loro diritto all'istruzione possa andare avanti per fare questo c'è lo sforzo di tutti abbiamo bisogno delle riflessioni che ci verranno date oggi è un momento bellissimo perché tante prospettive si mettono insieme ecco abbiamo bisogno di prospettive perché certamente abbiamo un periodo di crisi è difficile ma proprio adesso viene fuori la capacità della nostra democrazia attraverso un fare scuola che può diventare scientificamente più forte più alto io sono convinta che in questi momenti di crisi davvero ci sia una grande opportunità certo la fatica è enorme gli sforzi sono tantissimi ma proprio adesso più che mai essere insieme dialogare a livello istituzionale in maniera forte tangibile con esperienze concrete può fare davvero la differenza e questa differenza la facciamo tutti quanti insieme partendo da quella voglia di essere insieme ma di essere insieme con qualcosa di forte coraggioso che chiama tutti a una grandissima responsabilità allora io oggi vorrei essere qui ascoltarvi insieme a tutti gli altri pensando davvero che i sogni si possono realizzare le cose si possono fare ma devono essere grandi più grandi perché solo così riusciremo a seguirle così diceva Oscar Guaio e con questo io vi voglio davvero salutare e ringraziare e sono pronta e disponibile come credo tutti i colleghi che ci stanno seguendo da tutta Italia per poter dare e offrire all'educazione degli adulti una grande possibilità di essere tutti sotto uno stesso cielo con la speranza di poter guardare tutti avanti e superare insieme questa crisi grazie a tutti